Regina per oggi non c'è, è rimasta a casa, quindi rimangono in sei, partenza subito valida con Macchia impegnata da Roder, cercano subito di recuperare il gap, Dinamite innanzitutto poi gli altri due mentre per il momento Lorenzo Insigne chiude il gruppo e così Macchia a comandare nei confronti di Roder si è già avvicinato Dinamite, adesso Roder con Vincenzo Marotta punta in avanti ed ottiene strada da Macchia con Raffaele Attonito ma a largo interviene già Dinamite con Giulia De Franchis che va ad attaccare il leader tentativo di avvicinamento anche di Pegaso ecco sta passando a condurre Dinamite con Giulia De Franchis nelle prime posizioni dovrebbe esserci anche Mocambo, ecco lo vediamo Dinamite che procede adesso con una lunghezza di vantaggio nei confronti di Roder, poi Macchia in terza posizione fanno fatica ad avanzare i ritardatari con il solo Lorenzo Insigne quindi a circa 500 metri dalla conclusione Dinamite che prende vantaggio nei confronti di Roder in terza posizione il numero 4 di Pegaso che avanza bene a centro pista Pegaso è incisivo, va a caccia dei primi due, li raggiunge poi Lorenzo Insigne più distanti gli altri i primi tre si disputeranno il successo di dentro c'è Roder, a largo Dinamite e più a largo ancora Pegaso poi Lorenzo Insigne è un po' più basso questo di Lorenzo Insigne ecco vediamo che Pegaso avvicina Roder Pegaso con Giuseppe Di Muro va a attaccare Roder la rottura di Dinamite Pegaso sta superando Roder metri finali si avvicina anche Lorenzigno si rimette Dinamite e così alla fine Pegaso con Giuseppe Di Muro che va a concludere nei confronti di Roder con Vincenzo Marotta Dinamite con Giulia De Franchis Lorenzo Insigne con Francesco Compagnù mentre stanno arrivando anche Macchia con Raffaele Attonito e Mocambo con Piaminopoli